buonasera a tutti eh Giorgio mi ha chiesto di fare una un escurso diciamo un rapido escurso sull'importanza dell'ossigeno a livello cellulare visto l'argomento che eh stasera diciamo è oggetto di divulgazione allora io ho pensato di eh questi veramente 15-20 minuti massimo di farvi vedere eh in modo succinto e in modo anche fruibile diciamo quello è eh è veramente il ruolo di questa importante molecola per le nostre cellule vado subito a farvi a vedere una presentazione così la commentiamo eccola vedete io l'ho chiamata ossigeno primo nutriente cellulare aspetti buoni e meno buoni sì perché vedete noi nelle nostre cellule abbiamo degli organelli dentro che potremmo considerare come centraline elettriche l'Enel proprio diciamo le eh filiali Enel della cellula e questi sono proprio vedete qui indicati i mitocondri guardate importantissimi questi e guardate tutte le sostanze che noi mangiamo nutritive devono obbligatoriamente passare di qui per fornirci energia quindi ricordiamoci che gli zuccheri assunto l'alimentazione quindi carboidrati i grassi le proteine tutti passano di lì in modo ovviamente differenziato ma hanno diciamo un prodotto finale comune che è l'acido acetico attivato sì proprio l'acido acetico quello che dà quella diciamo acidità all'aceto nella cellula serve tantissimo perché diventa la molecola essenziale per entrare dentro questi mitocondri con l'utilizzo dell'ossigeno e fornire vedete l'energia che viene proprio immagazzinata in un'altra molecola che si chiama adenosintrifosfato e quindi vedete l'ossino che noi respiriamo proprio ed è produrre diciamo poi fondamentalmente l'energia è proprio tramite l'ausilio l'uso proprio la combinazione un utilizzo diciamo molto raffinato chiaramente che non è oggetto di questo tipo di trattazione che è proprio l'acido acetico attivato e poi alla fine si producono questi prodotti ATP quindi queste molecole che immagazzinano ci danno energia per tutto il mantenimento di tutto il corpo dell'energia cellulare tutte le funzioni veramente vitali che abbiamo bisogno è proprio il serbatoio chimico d'energia poi l'acqua e la co2 è quella quando noi facciamo ispirazione poi respirazione espiriamo la co2 proprio quindi scartiamo la co2 ma produciamo anche un po di acqua metabolica quindi l'importanza di questi metodi uno dice se questo processo di ossidazione fosse tutto regolare da se tutto non dovrebbe essere in modo giusto si dovrebbe avere solamente come prodotti ecco ora si vede male comunque ecco acqua e co2 quindi vedete non torno un attimo indietro questo sarebbe ottimale acqua e co2 purtroppo però molti fattori esterni fanno in maniera vedete questa ossidazione cioè l'utilizzo dell'ossigeno ecco eccolo qua vedete che noi respiriamo ai fini diciamo di produrre energia avvenga in modo parziale trasformando dei sottoprodotti instabili dell'ossigeno sono detti ros che è una sigla inglese significa specie reattive ecco dicevo se il processo ossidativo avvenisse in modo completo si avrebbero come sottoprodotti solo l'acqua e la co2 ma molti sono invece fattori esterni che fanno sì che questa ossidazione mitocondriale avvenga in modo non completo parziale formando dei sottoprodotti instabili che vengono detti proprio specie reattive dell'ossigeno nell'inglese la sigla ros e vedete e guardate eccole qua vedete quindi grassi lucidi o zuccheri amminoacidi vanno vedete nella cellula c'è questo processo fondamentale della demolizione di zuccheri si chiama glicolisi avviene proprio diciamo nella il medium della cellula nel citoplasma vedete che però eccoci quello dovrebbe essere poi la respirazione normale dei mitocondri che vi avevo appena detto eccoli qua che è proprio i processi si chiamano Krebs il ciclo di Krebs accoppiato alla catena respiratoria per produrre proprio l'acqua come si diceva prima e l'adenosintrifosfato quindi la molecola serbatoria d'energia purtroppo va verso invece la formazione delle specie reattive dell'ossigeno ecco la direzione ramorosa quando questo processo è incompleto allora vedete cosa è che contribuisce a fare questo processo a diciamo eh portarci quindi l'ossigeno molecolare in maniera questa ossidazione in maniera diciamo non corretta scorretta incompleta intanto una dieta scorretta vedete subito lassù della reazione ultraviolette soprattutto quindi ionizzanti anche inquinanti ambientali il fumo sia attivo e passivo per non parlare dei farmaci di additivi chimici che troviamo soprattutto anche negli alimenti e poi sia che i processi ovviamente infettivi tutti contribuiscono diciamo a una dissociazione di questo corretto utilizzo dell'ossigeno molecolare al livello della cellula per produrre energia e invece c'è una dissociazione quindi una non corretta diciamo eh utilizzo diciamo completo dell'ossigeno e si apre la produzione di questi famosi ross e vedete che questi ross una volta che si formano sono come veramente delle bombe a orologeria che vanno attaccare proprio la cellula guardare l'esterno della cellula vedete che ci hanno proprio delle cariche libere proprio come se fossero cariche elettriche che loro devono ovviamente smaltire devono in qualche modo diciamo eh assurdo diciamo poter annullare e per fare questo vanno proprio a cercarsi altre molecole che sono presenti sia nell'esterno che nell'interno della cellula quindi uno dice è e guardate per esempio fra tutti questi fattori drammatici è per esempio il fumo ecco perché io dico il fumo veramente il peggio del peggio è una produzione veramente clamorosa di queste specie reattive d'ossigeno o radicali liberi dell'ossigeno eccoli qua per compensare queste diciamo scompensi di carica vanno attaccare vedete la struttura della cellula combinando degli anticuai vedete eccoli qua come dicevo molto reattive si combinano con le proteine o le grassi delle cellule e provano sia danni sia sulla membrana eccola qua ma anche all'interno del nucleo quindi il dna direttamente dove c'è l'informazione genetica ed ecco allora che col tempo se c'è un accumulo veramente importante di tutti questi ross a questo punto si crea una condizione di stress ossidativo cioè la lotta che si ha diciamo nel nostro corpo a livello cellulare tra diciamo le specie che invece tendono a dare il danno e quelle che invece tendono a proteggerci dal danno che si chiamano proprio antiossidanti attenzione questi possono essere endogeni cioè noi c'era riproduciamo noi nella cellula mediante un'alimentazione corretta la supplementazione corretta e possono essere invece esogeni cioè quindi assunti all'esterno però ogni anno una gradazione anche di efficacia potenza diversa molto importante infatti è lo stimolo che si promuovano e che inducono proprio la produzione a livello della cellula di queste difese questo scudo contro questi benedetti vedete in modo anzi maledetti direi radicali liberi dell'ossigeno quindi vedete c'è proprio una forza forzatura tra i due quindi vedete eccoci quando purtroppo ecco si ha una calda di difese antiossidanti della cellula e un aumento di queste specie di attivo radicali liberi dell'ossigeno ma non solo dell'ossigeno addirittura sono scoperti anche di altri atomi come l'azoto si ha il danno cellulare che porta vita alla malattie cardiovascolari alla demenza al morbo di parkinson guardate l'invecchiamento precoce infiammazione tumori altre malattie qui tutte queste specie tutte diciamo questa patologia diciamo a largo spettro in qualche maniera volente o nolente diciamo i radicali liberi dell'ossigeno soprattutto c'entrano sempre guardate quindi sono non a caso che hartmann diciamo che nel 1956 proprio fu lo scienziato che li scoprì proprio vinse il premio nobel per questo anche se allora la gente ovviamente mi dava contro i colleghi come al soli quando si fanno teorie nuove ma che dici l'ossigeno porta la vita adesso ci porta anche la morte e invece si scoprì proprio la doppia faccia dell'ossigeno buono e meno buono anzi direi tutto cattivo da combattere guardate quante negli anni dalla scoperta di hartmann del 56 sono state scoperte quante patologie quante malattie sono legate alla carenza dell'ossigeno c'è l'utilizzo scorretto dell'ossigeno e quindi allo stesso ossidativo guarda praticamente dice ma tutto è tutto cancro diabete complicazione del diabete l'artrite deumatoide la cataratta che deriva dallo stress ossidativo il parkinson l'alzheimer quindi le malattie neuro degenerative degenerative per il sistema nervoso lo stroke la feriosclerosi per non parlarne proprio quindi vedete quindi ovviamente anche l'infarto di macabie conseguenza anche la feriosclerosi eppure l'obesità che poi di conseguenza può portare anche al diabete e poi alle complicazioni che si possono avere anche a livello dei basi vascolari ma guardate una cosa che vi volevo dire è questa c'è addirittura un meccanismo di adattamento al dipossia per la respirazione che vi ho detto proprio in pochi in pochi minuti proprio pensate che c'è una situazione hanno scoperto negli ultimi anni e gli ultimi venti anni studi importantissimi hanno portato al fatto che la cellula si sa adattare anche a meno ossigeno cioè impedisce quindi l'utilizzazione di un prodotto finale che è quello della demolizione degli zuccheri che si chiama piruvato cioè lo zucchero quando si per produrre energia deve passare da questo piruvato che poi si trasforma appunto in quel famoso acido acetico che vi ho fatto vedere attivato che tecnicamente si chiama acetilcoenzima e invece cosa succede in questa ecossia di torce adattamento la cellula pensate che va verso non va più verso il famoso mitocondrio le famose centrali energetiche della cellula ma se ne cioè se ne frega proprio e utilizza solamente la via di demolizione di zuccheri però in maniera perversa in maniera non corretta e questa sapete è una via che è molto usata dalle cellule che proliferano in maniera non controllata e soprattutto proprio la via usata proprio dalle cellule tumorali che in carenza di ossigeno come dimostra il grande scienziato Otto Warburg ci sguazzano veramente alla grande ecco perché questo è molto molto importante che venga sottolineato e vedete infatti ecco nelle molecole derivanti ai nutrienti sono convertite in energia attraverso la respirazione si tratta un meccanismo molto elegante ma le cellule succede a un certo punto chiudono i rubinetti e inviano i combusti inviano il combustibile ai mitocondri appunto le cellule che fanno questo sono soprattutto le cellule in proliferazione non regolata non controllata e in particolare per le tumorali e allora ecco perché un altro aspetto volevo farvi vedere clamoroso sempre degli ultimi anni è venuto fuori guardate questo è il buon lavoro l'ipossia e l'infiammazione sono due facce la stessa medaglia e sapete a cosa portano l'infiammazione cronica a parte le patologie vascolari quindi con un infarti ictus soprattutto alla patologia tumorale vedete quanto sono collegate di infossia infiammazione stessa fa due facce della stessa medaglia pensate e allora ecco perché nel 2019 proprio con l'amico abbiamo condiviso con gioia il fatto del premio 9 per la medicina fosse proprio stato assegnato a questi tre grandissimi scienziati che hanno fatto queste scoperte negli ultimi 20 25 anni meritatamente il professor semenza serve il professor serratcliffe e kevin proprio che hanno vinto veramente con nostra grande gioia un premio nobel veramente strameritato allora andiamo a dire come si può sistemare tutto questo si può sistemare con una formulazione che io veramente usa oltre 20 anni da quando conosciuto giorgio terziani che è stata messa a punto un grandissimo scienziato tra l'altro amico di einstein pensate il professor evere story che era biochimico e microbiologo che ha creato questa scissione dell'acqua cioè pensate in pratica lui utilizza una formulazione particolare per produrre proprio ossigeno a livello cellulare cioè genera ossigeno dentro lo genere a livello subcellulare questa particolare formulazione eccola qua che ha avuto il piacere il primo essere forse tra gli uomini diciamo i professionisti nazionali a conoscerla tramite diciamo la importazione al suo tempo fece del 99 giorgio terziani proprio e che io uso regolarmente da quel tempo ma la cosa bella che giorgio poi anche sul mio consiglio mi ricordo proprio abbiamo ha fatto fare gli studi importantissimi pensate all'università di urbino di milano studi patologia generale di milano che è andato molto molto portato soprattutto in virtù della direzione la professoressa maria elena ferrero e anche di sua sorella che lavorava con gli studi immunologia collegata proprio alla all'istituto tumori all'istituto diciamo di patologia e vedete che è proprio la messa a punto di questa particolare formulazione contiene un'alga marina alitotamico calcareo già di per se stesso era antitumorale antiossidante in forma colloidale questa è una particolarità contiene poi l'inzimio oligo elementi e soprattutto questo deuterio solfato in traccia attivato una formulazione particolare che poi gli studi fatti poi prima urbino da professore canistari hanno dimostrato veramente l'efficacia a livello dello scudo antiossidante che si diceva ma soprattutto milano ha dimostrato l'aumento della respirazione micondiale cioè riportare la respirazione in maniera corretta non per la via dello zucchero e basta ma per la via della respirazione corretta a livello dei famosi mitocondri e poi un'elevata protezione vedete al livello punto i danni scusate ma a volte basta truccare eccoci e poi soprattutto una significata espressione di questo fattore ipossico è stato il motivo che ha dato il nove intorno un attimo indietro a questi tre che hanno scoperto con il fattore ipossico che si diceva prima che è capace guardate intorno un attimo indietro di adattare la cellula pensate alle condizioni di possia e quindi questa qui è ovviamente inibire questo fattore significa riportare in maniera corretta la respirazione dentro la cellula ecco questo famoso lavoro importante apparsa sul journal fisiologi farmacologi un giornale scientifico a livello biomedico un certo impatto chiaramente e poi vedete la osabella sulle linee leucemiche un team di studio proprio della professoressa Galati di cui hanno fatto parte anche la dottoressa Benedetti insomma altri diciamo colleghi ha stabilito che il laboratorio di studio tumori appunto di decinella di roma ha evidenziato proprio ha ottenuto in pratica gli stessi risultati fatti proprio confermando ed estendendo quello che aveva fatto la professoressa Ferrera a Milano pensate sono due laboratori completamente indipendenti vedete questo self food determinato l'aumento dell'ossigeno eh dovuto all'attività corretta dei mitocondri e la produzione giusta dell'adenosine di cosfato che è la famosa molecola che ingloba l'energia quindi uno shift positivo del un cambiamento del metabolismo cellulare dalla via tricolitica dello zucchero deviata nelle cellule in prolificazione a mercure tumorali a quella corretta misocondriale e quindi vedete le conclusioni poi arrivata vedete azione del self food protezione antiossidante del dna modulazione del metabolismo l'indibizione del fatto di sopravvivenza cioè favorire proprio la corretta diciamo in questo caso inibire la sua avvenza delle cellule leucemi attenzione quindi vedete il blocco di iniziale l'angiogenesi un processo di produzione di vasi in cui ci stagnano si nutrono le cellule tumorali che proprio che diciamo loro creano vasi per potersi ovviamente per potersi auto nutrire pensate le vandole però ovviamente alla cellula sana il blocco della carcinogenesi e quindi vedete è stato definito forma in conclusione un nutrasceutico cioè un nutrizionale ad azione farmaceutica di grande utilità clinica sia come la prevenzione del cancro chemopreventivo come supporto al trattamento antineoplastico anche in considerazione la sua tollerabilità e sicurezza a lungo termine si può associare alle terapie antoplastiche ecco questo vedete sono sempre la conclusione a cui è arrivato sia a Roma e Milano vedete gran utilità clinica come supporto al trattamento e come prego preventivo ecco quindi ritornando un attimo e concludendo questa questa mia rapida es pulsus diciamo ecco posso dire solamente che ecco in conclusione si tratta veramente di una formulazione che merita di essere bene diciamo analizzata utilizzata ci sono stati poi tanti impieghi in questi anni non abbiamo avuto esperienza anche diretta io stesso non ho avuto tanta esperienza nella somministrazione chiaramente che va modulata infatti sapete che viene consigliato dalle otto volte c'è tre volte al giorno ma possono essere anche un po' di nomina a volte alcune persone a me bastano scicche perché sennò otto sono anche troppe altre mi dicono mi sento bene con dieci tre volte al giorno chiaro che in funzione poi della patologia della situazione questa come prevenzione in funzione della malattia o patologia in cui siamo davanti come supporto possono occorre dosi ben ben molto superiori per esempio come ho visto nei casi di supporto tumorale siamo arrivati anche a 20 25 pensate gocce tre volte al giorno almeno 20 quindi tutto dipende poi dalla personalizzazione ovviamente come al solito del trattamento è sempre da fare una terapia e medicina personalizzata bene grazie l'attenzione spero che questa spalmatina diciamo sia servita a tutti il diciamo gli utenti che sono collegati oltre sera con giorgio terziani che mi ha chiesto come un amico e il suo consulente anche personale in tante occasioni di poter non crediciamo anche relatore perché abbiamo condiviso anche delle importanti iniziative scientifiche come le scuole d'alta formazione insomma questa pennellata avrebbe determinato un chiarimento sull'azione buona e meno buona grazie a tutti